Certo, l'umanità è l'uso tra il pensiero, il sapere pensare e l'automatismo psichico. E che cosa significa questo? È la coscienza che pensa. La mente corticale decodifica solo contenuti psichici. E noi crediamo di pensare. La tua è illuminazione, vero? No? La coscienza conosce ogni cosa della natura. Niente ne è occulto, ma tutto è palese. Ma qual è il segreto della tua trasformazione? Oh, è un piccolo segreto. Sono funghi del Trentino cucinati in un certo moglie. Hanno l'effetto del peyote messicano, no? Ma basta, non fatemi dire altro perché i posti dove trovarli sono top secret. Grazie a tutti. 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 Grazie.